Qual è il tuo nome? Io sono Tradmo Ahmed, ho 15 anni residente qua a Ventimiglia, ho perso la casa del proprietario di casa prima, ho un po' ritardi anche come l'ha affitta, ho avuto un po' di problemi di lavoro, la crisi è in giro, faccio moratorio, faccio panettiere, quindi sono residente qua e ho 15 anni, quando ho avuto questi problemi sono venuti qua alla comune di Ventimiglia, alla Stanza Sociale, ho trovato i miei problemi salvati, avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, tre mesi, alla fine ho messo il bambino e la moglie dalla sora a Ventimiglia alta, perché abitiamo a Ventimiglia alta prima, quindi un mese e 13 giorni la Stanza Sociale ha fatto obbligatorio per portare l'amore del bambino fuori, non posso mettere la bambina con l'amore lì alla Stanza Sociale, paghiamo troppo soldi, quindi ho detto, guarda, aiutatemi, ho trovato una stanza per raccogliere la mia famiglia, io non ho mai abituato così, ha parlato così? Il sindaco non ha chiesto per parlare con il sindaco, per caso ho detto è difficile parlare con il sindaco, quindi io ho stato con la Stanza Sociale, la Stanza Sociale non è andata bene con loro, ha chiuso tutta la porta, ha detto non abbiamo niente, è andata via a Tunisia, questa non è bella risposta, io con 10 anni, i residenti qua mi mandano, non dico manda via a Tunisia, dico vai a portare a Tunisia, a Tunisia non c'è nessuno, la famiglia non c'è non c'è nessuno, io ho abituato qua, la bambina è nata qua, tutte queste le stanno suiciate, la bambina è nata qua, neanche parla perfettamente arabe, capisce arabe, quindi alla fine la fine ha buttato fuori ieri sera, e dove vado? Io non posso andare nel fiume, o a lungomare o sotto il ponte con due bambini, bambina sette anni, otto anni, dove vado? Dovete andare e veniva qua, finiva. Tra l'altro al mattino dovete sgomberare perché non potete restare? Sì, adesso tolgo subito, adesso tolgo subito, per carità, tolgo subito, adesso tolgo subito la mia roba, metto la macchina, e io non posso anche dormire nella macchina con due bambini, meno mai c'è una macchina, una carriola, per andare avanti e indietro, quindi la notte io torno qua, non posso andare nessuna parte, quindi andate via a Tunisia. Grazie. Va bene.